Il piaccia di Roma si chiama Società Spotturiva Lassi Europeo Nel numero 22 Federico Lossi 29 Appulani Nel numero 20 Giuseppe Nel numero 2 Micael Con il numero 26 Stefano Con il numero 24 Cristiano 19 Serrat Numero 15 Alvaro Maglia numero 8 Andorzon Numero 6 Capitano Stefano Maglia numero 11 Vincito Diburgo Immaggina con la maglia numero 11 Malfaga Bizarri 84 Diburgo Diabicio 2-3 Andre Sina 5 Pietela Scaloni 21 Odibu Diabite 87 Antonio Cantrella 27, Loni Insana 32, Cristian Brocchi 23, Eddie Onasi 99, Sergio Zlocchari 25, Antonio Brozzi L'allenatore della Lazio, Vladimir Berkowicz Grazie